È vero che di solito quando si sta sui social, soprattutto, lo si fa in momenti di relax, quindi non è facile dire cerchiamo sempre di farci delle domande, cerchiamo sempre di stare attenti, di tenere attivo allo spirito critico, però questa dovrebbe essere la prima cosa da fare. Quindi, nel momento in cui ci si va a approcciare a una notizia, di farci qualche domanda. Uno degli indicatori, ad esempio, più pratici è quello delle 5 W del giornalismo, quindi chi, cosa, come, dove, quando, le 5 domande a cui dovrebbe rispondere un giornalista per creare una notizia. Se non ci sono, quindi, se la notizia che andiamo a leggere manca di alcune di queste informazioni, probabilmente non è una notizia del tutto. Sì, quindi questa è una delle cose, diciamo, delle prime cose. Poi, un'altra domanda da farci è se la notizia che stiamo leggendo risponde esattamente a quello che noi vorremmo leggere, perché generalmente la realtà non è né semplice da comprendere, né che risponde esattamente alle nostre esigenze. Quindi, se vediamo una notizia che è troppo bella per essere vera, chiediamoci se effettivamente è vera, perché, proprio per come funzionano i social, ci propongono delle informazioni che confermano i nostri pregiudizi, quello che già pensiamo, quello che abbiamo cercato prima. Quindi, è facile che, dopo aver fatto una ricerca di un certo tipo di informazione, poi veniamo bombardati da tutta una serie di altre informazioni che confermano quello che abbiamo cercato o quello che pensavamo. Quindi, nel momento in cui vediamo notizie che, appunto, confermano esattamente quello che vorremmo sapere, vorremmo leggere, vorremmo vedere, lo vediamo in tanti blog, sempre per tornare alla politica, che ci fanno vedere proprio le notizie in una maniera faziosa, che ci soddisfa, soddisfa quelle che sono le nostre preferenze, diciamo. Certe volte rimango stupita, perché molte persone veramente non conoscono le basi dello strumento che utilizzano. Io non gliene faccio una colpa, perché mi rendo conto che internet, per me, è stata una conoscenza graduale che ho intrapreso fin da quando ero ragazzina, quindi sono cresciuta un po' insieme alla rete. Ma tante persone si sono trovate negli ultimi anni con un dispositivo mobile in mano, con già preinstallati dei social network, senza avere idea di che cosa erano, di come funzionavano. Quindi è veramente, non è sorprendente, ma è diffusissimo il fatto che ci troviamo in mano degli strumenti potentissimi che possono creare e distruggere in maniera molto facile, perché pensiamo ai furti di dati, pensiamo a cosa può succedere se ci rubano i dati della carta di credito. Tutta una serie di cose che possono essere bellissime, possono essere devastanti e magari le mettiamo in mano alla nonna che non ha mai avuto nemmeno un computer e quindi veramente non ha modo di difendersi da queste cose. Allo stesso modo non si possono difendere da tutta una serie di truffe basate sulle fake news, dalle fake news stesse che manipolano l'opinione pubblica e non se ne può fare una colpa a loro. Secondo me ci dovrebbe, secondo noi ci dovrebbe essere una formazione di base che possa mettere tutti in condizioni di difendersi, di capire, di usare bene lo strumento che stiamo utilizzando.